ciao come ti chiami beh mi chiamo daniele de grandis per gli amici di dg che lavoro fai ma mi occupo di telefonia da un po di anni e sono general manager di lenovo moto a quindi se il capo così dicono dove ci troviamo ma siamo a barcellona in questa kermess straordinaria di novità di prodotto senti che giorno è oggi seconda domanda primo marzo cosa avete presentato qui al mobile world congress ma innanzitutto il brand moto che sarà da adesso in avanti presente nei nostri prodotti e due prodotti di fascia media moto g5 g5 plus spiegami in dieci secondi perché dovrei comprare moto g5 e g5 plus ma perché sono prodotti straordinari affidabili di qualità costruttiva elevata batteria lunghissima fotocamera eccellente prodotto straordinario moto g ha dato grande soddisfazione negli anni come si rinnova questo successo ma si rinnova con prodotti di qualità costruttiva elevata dalle caratteristiche eccellenti con del posizionamento di prezzo molto interessante perché dovremmo scegliere un vostro prodotto e non uno della concorrenza perché noi siamo different is better non per essere differente ma per essere migliori ci fai vedere il tuo telefono of course moto z fantastico spiegaci quale sarà il futuro dei moz di moto z il futuro di moto è un moz per chiunque andando a incontrare qualsiasi passione o necessità professionale quindi ci sarà un moz per ogni necessità grazie mille di dg noi ci vediamo presto ci vediamo presto ciao